Fratelli e sorelle, in questa santissima notte nella quale Gesù Cristo nostro Signore è passato dalla morte alla vita, la Chiesa diffusa su tutta la terra chiama i Suoi figli a vegliare in preghiera. A Lui appartengono il tempo e i secoli, a Lui appartengono la gloria e il comando per tutti i secoli in eterno. A Lui appartengono il tempo e i secoli.